In quanto si tratta questi argomenti, da una parte fanno un piacere da fare, dall'altra parte non possiamo assolutamente nascondere la nozione che viene toccata. Io sarò creduto, non ho un piacere di nulla, anche se dovuto a un'illusione qualcosa mi sono appuntato. Dunque, innanzitutto ringrazio il sindaco e l'amministrazione che avevo il piacere di far parte, perché appena ho chiesto al sindaco e all'amministrazione se potremmo fare questo evento per i centrali dell'ACI di Gioia Dorsini, ovviamente ci sono messe subito a lavoro, come si fa con un evento, e il sindaco ha dato la sua disponibilità, anche se l'ha già detto prima, però mi fa piacere l'inanziato pubblico. io credo che dopo le relazioni che ci sono state non aggiungerei nulla, anche perché io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Gioiello, perché io non ho arrivato a Tisa, il motivo di versi per anni e non ho l'anno per lui morto, e l'ha già morto da quattro mesi. Dal giovane socialista, che ho vissuto in una famiglia dove ovviamente ho respirato politica sempre, e ho incominciato a frequentare il partito, il partito delisa, su dai pieni mesi ovviamente la mia presenza in questa città.